Il tema della cybersicurezza è sempre più di attualità, visti sempre più frequenti fatti di cronaca. Su questo tema la Croa Environment ha sempre posto una grande attenzione e ha sviluppato i suoi prodotti in modo da proteggere i propri clienti da possibili attacchi hacker esterni. S4W è la nostra RTU pensata per il ciclo idrico integrato, che offre alti standard di sicurezza grazie alla certificazione di indicazione elettronica e il server VPN su internet pubblico. S4W è la RTU semplice, affidabile e robusta grazie alle librerie dedicate e sviluppate per il ciclo idrico integrato, acque potabili e reflue e agli automatismi integrati. La comunicazione viene sempre garantita grazie al modem 4G e porta a Ethernet inclusa. La facilità e la semplicità di utilizzo di S4W consente tramite l'amministrazione centralizzata delle stazioni remote di gestire il controllo degli utenti e il loro accesso. Per rispondere alle esigenze tecniche il nostro team è sempre disponibile tramite supporto remoto e attraverso corsi di formazioni dedicati per i tecnici di campo.